La pace passa anche dall'economia del dono. Questo in sintesi il significato dell'intervento che il noto economista Stefano Zamagna ha tenuto a Rondine, cittadella della pace, ai giovani dello studentato internazionale proveniente da paesi in conflitto tra loro e ai ragazzi del quarto anno liceale di eccellenza provenienti da tutte le parti d'Italia. Rondine è radicata nella dimensione del dono, cioè non si supera il conflitto se non c'è da parte di ciascuno la dimensione del gratuito, non si va incontro al nemico se non c'è la disponibilità di perdere qualche cosa e perdere vuol dire donare. La pace è possibile ma non è spontanea, va costruita e quindi bisogna recuperare un antico adagio dell'epoca romana che diceva si vi spaccia in para civitate, cioè se vuoi la pace devi preparare costruire istituzioni di pace. Questo è un punto che non viene mai sottolineato ed è invece fondamentale. Ebbene Rondine è una istituzione di pace e quindi va nella direzione di cui appunto si diceva. Promotore dell'economia civile che poggia le sue basi sulla tradizione economica francescana, Zamagna ha scelto Rondine per presentare una riflessione a tutto tondo sull'economia circolare e sull'importanza del dono come elemento costituente di una società che tende alla giustizia. Qual è il principio che sta alla base di istituzioni di pace? È il principio del dono e quindi del perdono perché perdono in latino vuol dire donare ampiamente. In altre parole il concetto di perdono che non vuol dire dimenticanza, non vuol dire amnesia, non ricordare, ma vuol dire restituire a chi per una ragione o per l'altra ha commesso reati di un tipo o dell'altro la possibilità di recuperare e di reiniziare. E in merito al recente rapporto sulle disuguaglianze nella ricchezza presentato da Oxfam spiega. Il rapporto Oxfam ha colpito nel segno ancora una volta come peraltro le edizioni precedenti. non si tratta di cose nuove, gli addetti ai lavori li sapevano. Il punto è che occorre passare dalla genius alla terapia. In altre parole bisogna aggredire la formazione delle rendite che sono di varia natura, finanziarie, immobiliari, burocratiche e così via. E per far questo bisogna agire sulle istituzioni. Le istituzioni sono le regole del gioco. di scena.